Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema. Vediamo le news di oggi. Di recente sono spuntate alcune polemiche sull'uso di massa degli occhialetti dati in dotazione per vedere i film in 3D. Alcuni esperti, infatti, hanno denunciato il rischio di possibili problematiche che potrebbero nascere in seguito all'uso di questa tecnologia. A poco più di un mese dall'uscita di Avatar, Titanic è stato sbancato e i milioni incassati ormai non si contano più. Forte di questo successo, la 20th Century Fox sembra che stia pensando ad un sequel. James Cameron non fa mistero del fatto che Avatar è predisposto per avere un seguito di cui già ci sarebbe storyline e idea. Arriverà tra qualche mese Sex and the City 2 e già si parla di successo. Il secondo estratto dalla serie TV Sex and the City sarà di certo un successo come il primo. Intanto, vi ricordiamo che l'uscita in America è prevista per il 28 maggio 2010. Vi lascio con il trailer di oggi. Mi chiamo Ida Dalser, Sua Eccellenza Benito Mussolini e mio marito. Questa guerra sarà una guerra rivoluzionaria. Darà col sangue alla ruota della storia e il movimento. Non sarò mai contento io. Devo salire ancora più in alto. Sento di avere il dovere di essere diverso da tutti quelli che accettano la propria minocrità. Sono incinta. Cerachere, dai. E chi è? Andiamo, Ida, c'è la guerra. Non ci abbandonare, Benito! Non dimenticarti di tuo figlio! Benito, guardami. Sono pronta a perdonarti e a dimenticare tutto. L'alzami! Io sono stata la prima a credere in lui. E se lui è diventato quello che è diventato, lo deve anche a me. Mussolini! Ci hai abbandonato nella miseria più nera! Ladro! È una battaglia persa. Ragiona, sono più forte. Benito! Aiuta! Io non l'ho mai tradito neanche col pensiero. O lui o nessun altro. No! Non c'è traccia del suo presunto matrimonio con Sua Eccellenza Benito Mussolini. Lei sbaglia, gridando continuamente la verità. Se nessuno mi ascolta, devo continuare a gridare. Ma di che ti lamenti, l'alzare? Hai avuto un figlio da un uomo che tutte le donne vorrebbero come marito o come amante. E quando sarà che la grande campana suonerà a martello? Hai certo che tutto il popolo italiano risbonderà? Giugno! Vincere! 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 Grazie a tutti.